Ferdinando Magellano, l'esploratore che circunnavigò il globo Ferdinando Magellano è stato un esploratore e navigatore portoghese, nato a Sabrosa nel 1480 e morto a Mactan nelle Filippine nel 1521. È noto soprattutto per essere stato il primo uomo a circunnavigare il globo, un'impresa che ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'umanità. Magellano proveniva da una famiglia nobile e fin da giovane si interessò alla navigazione. Nel 1505 partecipò alla spedizione guidata da Afonso de Albuquerque che conquistò Malacca, un importante porto commerciale nel sud-est asiatico. In seguito, Magellano partecipò ad altre spedizioni in India e nelle isole della Sonda. Nel 1517 Magellano si recò in Spagna per cercare il sostegno del re Carlo V per un progetto ambizioso, raggiungere le Molucche, un arcipelago ricco di spezie, navigando verso ovest, attraverso l'Atlantico e l'Oceano Pacifico. Carlo V accettò il progetto e Magellano fu nominato capitano generale di una spedizione di cinque navi e 237 uomini. La spedizione salpò da Sanlucar de Barrameda il 19 settembre 1519. Dopo aver attraversato l'Atlantico, Magellano giunse in Sud America, dove scoprì lo stretto che oggi porta il suo nome. Lo stretto permetteva di passare dall'Atlantico al Pacifico. La spedizione attraversò l'Oceano Pacifico e giunse alle Molucche nel novembre 1521. Dopo aver fatto rifornimento di spezie, la spedizione salpò per tornare in Spagna. Magellano morì in uno scontro con gli indigeni dell'isola di Mactan, nelle Filippine, il 27 aprile 1521. La spedizione fu portata a termine da Juan Sebastian Elcano, che giunse in Spagna il 6 settembre 1522, dopo un viaggio di tre anni e due mesi. La circunnavigazione del globo di Magellano ebbe un impatto profondo sulla storia dell'umanità. Dimostrarono definitivamente che la Terra è una sfera e che l'Oceano Pacifico è molto più vasto di quanto si pensasse. Inoltre, la spedizione aprì nuove rotte commerciali tra l'Europa e l'Asia, con conseguenze economiche e politiche di grande portata. L'impresa di Magellano La spedizione di Magellano fu un'impresa audace e pericolosa. I naviganti dovettero affrontare condizioni meteorologiche avverse, malattie e conflitti con gli indigeni. Il viaggio fu lungo e faticoso. La spedizione attraversò l'Oceano Atlantico per circa tre mesi, raggiungendo le coste del Brasile. In seguito, la spedizione risalì la costa sudamericana, fino a raggiungere lo stretto che oggi porta il nome di Magellano. Lo stretto è stretto e tortuoso, e la spedizione impiegò tre settimane per attraversarlo. Dopo aver attraversato lo stretto, la spedizione giunse nell'Oceano Pacifico. L'Oceano Pacifico è molto vasto, e la spedizione impiegò tre mesi per attraversarlo. Durante questo periodo, i naviganti dovettero affrontare la mancanza di cibo e acqua, e molte persone morirono di fame e di sete. Infine, la spedizione giunse alle Molucche, dove i naviganti fecero rifornimento di spezie. Dopo aver lasciato le Molucche, la spedizione salpò per tornare in Spagna. Il viaggio di Magellano fu un successo, ma fu anche un'esperienza tragica. Magellano stesso morì in uno scontro con gli indigeni, e molti altri membri della spedizione morirono durante il viaggio. Nonostante le difficoltà, la spedizione di Magellano fu un'impresa storica che ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'umanità. L'eredità di Magellano. L'impresa di Magellano ha avuto un impatto profondo sulla storia dell'umanità. Ha dimostrato definitivamente che la Terra è una sfera e che l'Oceano Pacifico è molto più vasto di quanto si pensasse. Inoltre, la spedizione ha aperto nuove rotte commerciali tra l'Europa e l'Asia, con conseguenze economiche e politiche di grande portata. Magellano è considerato uno dei più grandi esploratori della storia. La sua impresa ha avuto un impatto profondo sulla conoscenza del mondo e ha contribuito a cambiare il corso della storia.